gli diamo un coppo nel passamano però no con lo smalto con la bomboletta che è lo stesso colore facciamo prima una grattugiata e dopo ci passiamo con la bomboletta vi faccio vedere che già un pezzo l'ho fatto dove ci sono i stendini ora vi farò vedere avete visto qua già l'ho fatto sembra più pulito anche per stendere i vestiti e ora lo faccio pian piano lo faccio tutto quanto avete visto e ora è arrivato il momento dopo che l'ho gratteggiato colore avete visto scelto prima si fa così si sbatte tutto e poi poi vi farò vedere come è completo vi faccio vedere già ho passato tutto passamano avete visto vedete viene bello pulito adesso come era prima e come ora uno può poggiare i braccia si può affacciare ma a me a me non lo faccio tutto quanto lo faccio anche tutti i banconi anche con i bianchi ci diamo una pulitina shape Grazie a tutti.